A Ruzzante la provincia e il comune di Padova dedicano un doppio progetto culturale, il Ruzzanteo 2012 e il circuito Ruzzante. Noi ci siamo resi conto che le iniziative erano tante, però tutte scollegate tra loro. Loro abbiamo mandato avanti un progettino, è stato quello semplicemente di mettere in rete, di coinvolgere tutti quelli che recitano Ruzzante, che lo mettono in scena, per far sì che tutti i cittadini della provincia di Padova sappiano quali sono le rappresentazioni. Ne è nata una bellissima rassegna, 10-11 spettacoli all'Odio Cornaro per la nona edizione di Ruzzanteo 2012 e soprattutto lo spostamento in provincia, comincerà da Pernumia che è la città natale, quindi altri 12 spettacoli che girano per tutta la provincia, fatti non da un'unica compagnia ma da tutte le compagnie che hanno l'ambizione di portare in scena questo grande autore. Secondo molti studiosi Shakespeare ha saccheggiato le opere del Beolco, pensate alle storie criminali. Come ha fatto? Beh, in quel momento ricordiamo una cosa, pochissimi autori erano così rappresentati in Europa come Ruzzante. sta a denotare la forza di penetrazione che aveva la drammaturgia del Beolco. Come dire, è un aspezzo di Padova che ha girato in Europa e per vie traverse e non spesso limpide lineari, poi è arrivato anche a Londra. Grazie. 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 Grazie.